Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti per la vostra presenza, la vostra partecipazione. Grazie a tutti. 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 È chiaro che c'è un mister nuovo, quindi tutti noi abbiamo voglia di conoscerlo. È un sogno che abbiamo realizzato, ma ormai è il passato. Ora sono veramente carico e molto felice di essere qui. Grazie a Dio abbiamo questa famiglia e sono molto felice di questo. Ciao. 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 SAMITARAL Oh, c'è? Grazie! 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 Sette, doppie! Brava a te! 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Non lo hai, non lo hai, prima di ripetere! Non lo hai, prima di ripetere! 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 19, 20! Bravo Vatto! Si aspettano... È quello che si fa vicino? Si aspettano a partire... A partire 10! A buona, a buona! Ciao ragazzi! Bene! Personalità! Grazie a voi! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!